Tre donne inguaiate per furto, ricettazione ed utilizzo in debito di carte di pagamento. Ore di lavoro serrato per i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Figline Valdarno che nel volgere di poche ore hanno risolto numerosi casi di microcriminalità. Le tre vicende, indipendenti l'una dall'altra, hanno portato alla denuncia in stato di libertà delle tre responsabili, tre donne. Le prime due vicende riguardano la ricettazione e l'uso di carte Bancomat risultate rubate. Dopo una serie di minuziose indagini, i carabinieri del nucleo operativo di Figline Valdarno hanno scoperto che una 47enne di Pisa, pluripregiudicata, aveva effettuato quattro prelievi in diversi sportelli Bancomat per un totale di 1.000 euro e tre pagamenti in un negozio di calzature del centro per 459 euro. Il tutto con un Bancomat risultato rubato lo scorso 13 luglio ad una cinquantenne all'interno del supermercato Coop Firenze, sempre di Figline Valdarno. E sempre i carabinieri della stazione figlinese hanno denunciato una 41enne di Pisa, ritenuta anche la responsabile di aver utilizzato due Bancomat risultati rubati lo scorso 23 ottobre ed il 4 novembre a due signore di 75 e 55 anni. Anche in questo caso, la donna ha effettuato due prelievi, stavolta all'interno del supermercato, per un totale di 600 euro, poi ne ha tentati altri quattro da 250, riuscendo a prelevare danaro solamente al primo tentativo, poiché nel frattempo il marito della signora derubata aveva provveduto a bloccare la carta. In entrambi i casi, per le due donne è scattata la denuncia per ricettazione e per indebito utilizzo di carta di pagamento. L'ultimo provvedimento è stato preso nei confronti di una 47enne di Reggello per un furto aggravato messo a segno all'OVS, negozio all'interno del centro commerciale Copp Firenze di Figline Valdarno. La donna, incensurata, è uscita senza pagare, portando con sé alcuni capi di biancheria intima e bigiotteria per un valore di 28 euro. È stata però scoperta dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato una volante dei carabinieri. Per la signora è scattata una denuncia a piede libero per furto alla competente procura della Repubblica.